Musica L'addio a Totò Schillacin, migliaia in visita al feretro, i funerali domani alle 11.30 nella cattedrale di Palermo. Il blitz antimafia Irene e dall'inchiesta viene fuori un concorso truccato all'ASP di Trapani. Aggredisce e colpisce al volto con un coltello un ambulante bengalese condannato un mazzarese di 30 anni. All'ospedale di Mazzara carenza di personale, trema pediatria, ricoveri bloccati. Cuscus Fest domani al via la 27esima edizione a San Vitolo Capo. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Teleotto. Come sempre entriamo subito nel vivo del nostro telegiornale partendo da una notizia che riguarda Totò Schillaci. Dalle 16 di ieri sono migliaia le persone che stanno facendo visita al feretro proprio di Totò Schillaci, l'eroe di Italia 90, venuto a mancare ieri mattina intorno alle 10 dopo che un tumore al colon, che due anni fa sembrava essere stato sconfitto, è ritornato con più forza fino ad ucciderlo. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 11.30 presso la cattedrale di Palermo. Ieri anche la redazione di Teleotto era presente allo stadio Barbera di Palermo per rendere omaggio al grande campione siciliano. Ascoltiamo alcune interviste. Ciao ragazzi, è una giornata tristissima. Eravamo molti amici, veramente mi dispiace tanto. Qual è l'ultimo ricordo che hai di voi? Guarda l'ho sentito a meno di un mese fa, gli ho detto Totò dobbiamo andare in America, mi stessa sa portami in America e ha riso a capire. Mi dispiace, un grandissimo ragazzo, non li si va a far neanche a parlare. Forza Totò, ciao. Ciao Totò. Quello che dicevo prima, sono contento che siete tutti qua, sono contento che l'amministrazione comunale abbia fatto questo gesto nei confronti di Totò. Secondo me, il mio pensiero è stato sempre quello che gli artisti e chi rappresenta al meglio la nostra terra si debbano dare i meriti quando si è in vita. Mi dispiace perché io ci ho giocato tanto volte a calcio con la nazionale attore e lui era rammaricato che non aveva potuto chiudere la carriera nel Palermo Calcio anche se si era offerto a titolo gratuito, non voleva soldi e che nessuno ha mai pensato di dare un ruolo a un uomo che ha dato lustro e ha dato veramente un'importanza enorme a questa nostra terra. I palermitani devono correre a dare l'ultimo saluto perché ci ricordiamo, qua ci sono dei giovani ma i mondiali del 1990 sono stati momenti di aggregazione, di affetto, di gioia di una nazione intera e non ci dimentichiamo che insieme a Paolo Rossi è l'unico ad essere diventato il capo cannoniere di un mondiale con sei reti e soprattutto da dove arrivava. Un uomo che si è fatto da solo, che è la testimonianza di un riscatto perché nel benessere chiunque magari può arrivare facilmente ma chi viene da una situazione di vita difficile arrivare a vincere quasi un mondiale io direi che è giusto che ci si inchini a questo grande uomo umile sempre pronto ad aiutare il prossimo, non l'ho mai visto atteggiare, non l'ho mai sentito vantarsi abbiamo giocato diverse partite con la nazionale Attori ed era sempre lì a fare foto, insomma la prova della grande umiltà di un uomo che viene dal nulla ed è arrivato dove è arrivato e noi lo sappiamo quindi grazie Toto e condoglianza a tutta la sua meravigliosa famiglia l'ultimo ricordo che viene è quello degli anni 90 dove lui veramente ha fatto qualcosa di incredibile per la città di Palermo e lo ricordo con quello sguardo, con quella forza, con quella grinta che l'ha contraddistinto per tutta la sua carriera Niente che dire, Toto ci hai lasciato, l'eroe dei mondiali ci hai lasciato e non si poteva, non poteva andarsene così è stato un grande personaggio per noi famoso Qual è per lei il suo ricordo? Il nostro ricordo quando io ero piccolina andavo diciamo ai mondiali a fare il casino a sbariarmi con mio fratello, le mie amiche giustamente è stato un grande eroe per tutti Forza Toto, veramente un bacione da parte nostra Ti vogliamo bene E a proposito della morte di Toto Schillaci la FIFA ha disposto che la bandiera dell'Italia a Zurigo fosse messa a mezzasta la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma per tutto il fine settimana le esultanze incontenibili nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano ha detto il presidente FIGC Gabriele Gravina Parliamo del blitz antimafia Irene l'avete sentito anche nei titoli dall'inchiesta viene fuori un concorso truccato all'ASPE di Trapani il servizio tratto da un articolo della giornalista Laura Spanò Non c'è pace per l'azienda sanitaria di Trapani ancora scossa per l'operazione del dicembre scorso denominata ASPIDE ora la nuova indagine ribattezzata Irene che ha portato agli arresti esponenti politici alcamesi insieme ai vertici delle famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi e ha anche svelato un sistema di corruzione che ha coinvolto un concorso pubblico per l'assunzione di tre psicoterapeuti all'interno dell'ASPE del capoluogo l'indagine ha portato alla luce il coinvolgimento di Guido Failace direttore dell'unità operativa servizi per le tossicodipendenze certe di Alcamo deceduto lo scorso novembre in un caso di rivelazione di segreti d'ufficio e traffico di influenze illecite secondo le accuse Failace avrebbero rivelato a Manuela Fanara psicologa e psicoterapeuta già vice sindaco e assessore ai servizi sociali del comune di Calatafimi Segesta le domande del concorso pubblico per l'assunzione di psicoterapeuti presso l'ASP Manuela Fanara grazie a queste informazioni riuscì a piazzarsi al diciottesimo posto nella graduatoria ottenendo un punteggio di 48 su 50 Quello che hanno accertato gli investigatori è che le informazioni sulle domande che sarebbero state poste ai candidati in quel concorso le sarebbero state fornite grazie all'intervento di Francesco Coppola ai vertici della famiglia mafiosa di Alcamo il quale agì su richiesta di Ignazio Arena marito di Manuela Fanara Coppola sfruttò il suo rapporto con Failace la sua posizione di potere all'interno di Cosa Nostra per garantire il successo della Fanara nel concorso Siamo ad aprile del 2022 Coppola e i coniugi Arena si incontrano in un bar di Alcamo poi raggiungono lo studio di Failace che in quell'incontro forniva a Fanara alcune informazioni per la compilazione della documentazione necessaria all'iscrizione al concorso e sulla composizione della commissione esaminatrice che sarebbe stata preseduta dallo stesso Failace la commissione, cioè io, visto che sono io a chiederlo quindi dovrebbe essere, cioè sicuramente io come presidente poi vediamo chi sono gli altri componenti Dal tenore dei dialoghi emergeva l'esistenza di un rapporto collaudato secondo i giudici tra il medico e Coppola Il 17 agosto invece Failace fornisce a Fanara l'elenco completo delle domande oggetto della prova orale che inserite in una singola busta sarebbero state sorteggiate da ciascun candidato Dopo avere sottolineato l'importanza di comprendere l'argomento di ogni domanda Failace indica all'interlocutrice quale sarebbe stato l'argomento oggetto della parte finale dell'esame Quell'interessamento di Coppola non fu gratuito per Ignazio Arena Coppola infatti ebbe dei vantaggi economici Tra questi una falsa assunzione presso l'azienda agricola AgriConsult società cooperativa gestita dagli imprenditori Angelo e Giampiero Bambina Di fatto questa falsa assunzione permise a Francesco Coppola di ricevere contributi previdenziali per 102 giornate lavorative oltre all'indennità di disoccupazione senza avere mai svolto alcun lavoro Questo serviva a garantirgli l'accesso al trattamento pensionistico Inoltre, sempre secondo l'indagine, Ignazio Arena avrebbe ottenuto l'assegnazione di alcuni importanti lavori di scavo e movimento terra a favore del cugino dello stesso Coppola, Nicolò Coppola Insomma, un concorso pubblico che si trasforma in un'occasione per consolidare il potere della famiglia mafiosa locale e della capacità che ha di influenzare le istituzioni, le assunzioni sfruttando la rete di relazioni e intimidazioni Le azioni illecite di cui è accusato Arena comprendono la rivelazione e l'utilizzo di segreti d'ufficio il traffico di influenze e la truffa ai danni dell'Inps di Trapani Si svolgeranno oggi al carcere Pagliarelli di Palermo gli interrogatori di garanzia per l'ex senatore Nino Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone Sono i due nomi eccellenti finiti nell'inchiesta Irene con 16 indagati di cui 10 finiti agli arresti Papania e Perricone sono accusati di scambio elettorale politico mafioso Dovranno rispondere alle domande delle PM della DDA di Palermo sono assistiti dagli avvocati Vito Di Graziano e Giuseppe Benenati L'indagine ha riguardato soprattutto le dinamiche criminali di Alcamo e Calatafimi I reati contestati agli indagati a vario titolo sono associazione mafiosa, estorsione, spaccio di stupefacenti, traffico di influenze violazione di segreto d'ufficio e detenzione illegale di armi Giro di vite della Polizia di Stato nei controlli nel centro storico di Marsala Ascoltiamo Nei giorni scorsi a Marsala la Polizia di Stato su disposizioni impartite dal questore di Trapani ha incrementato gli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio anche in ragione della recrudescenza degli episodi di natura predatoria e di talune aggressioni verificatesi nel centro storico cittadino Queste attività svolte con il concorso dei militari dell'esercito italiano impegnati nell'ambito dell'operazione strade sicure hanno consentito di identificare circa 300 persone, 120 veicoli e di elevare 15 contestazioni al codice della strada Inoltre proprio nella nottata di venerdì 13 settembre scorso intorno a mezzanotte 30 gli agenti del commissariato Lili Betano sono intervenuti nei pressi del lungomare Boeo per una segnalazione di rapina Una giovane che si trovava in compagnia di due amici era stata poco prima avvicinata da due individui di origine nordafricana uno dei quali dopo aver estratto un coltello e averlo puntato al collo della ragazza è riuscito a impossessarsi del cellulare della vittima dandosi alla fuga con l'aiuto del complice Durante la colluttazione scaturita dalla reazione della giovane lo straniero le ha procurato lievi tagli sulle mani con il coltello I poliziotti del commissariato di Marsala si sono messi con tempestività sulle tracce dei due stranieri e aiutati dai militari dell'esercito sono riusciti in tempi rapidi ad individuare i responsabili i quali sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di rapina gravata I controlli sul territorio proseguiranno senza soluzione di continuità anche nelle prossime settimane Ci spostiamo a Partinico dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni già noto alle forze dell'ordine ritenuto responsabile di furto con strappo aggravato A seguito di una segnalazione giunta al 112 i militari della stazione di Partinico sono intervenuti nei pressi di via Armato dove poco prima una donna di 86 anni, disabile, aveva subito uno scippo L'indagato avrebbe avvicinato con una scusa la signora mentre stava passeggiando per le vie del centro di Partinico e approfittando della cordialità dell'anziana signora le avrebbe strappato la collanina d'oro che portava al collo per poi darsi alla fuga All'arrivo dei carabinieri l'anziana in stato di shock è stata immediatamente soccorsa e rassicurata Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi e solo una lieve scoriazione al collo dovuta proprio allo strappo del gioiello I carabinieri hanno acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza e sono riusciti a risalire all'identità del presunto autore del reato I militari hanno così proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'indiziato recuperando la collanina dell'anziana L'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Palermo che ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per il 54enne Sorpreso a rubare cavi di rame in manette un pregiudicato quarantenne di Petrosino il servizio I carabinieri della stazione di Petrosino hanno arrestato un pregiudicato quarantenne del luogo per il reato di furto aggravato Nel corso di un servizio di pattuglia i militari dell'arma hanno sorpreso l'uomo mentre era intento in contrada Parrini di Marsala a bruciare il rivestimento in PVC di circa 15 metri di cavi di rame della linea telefonica asportati nei giorni scorsi in una strada del centro abitato di Petrosino nella cui area era stata inoltre causata una interruzione dell'erogazione del servizio Dai successivi accertamenti grazie alle testimonianze raccolte il quarantenne è stato compiutamente individuato quale autore del furto All'esito della perquisizione presso il domicilio del quarantenne che già in passato è stato tratto in arresto per analoghe condotte predatorie di furti di cavi conduttori in rame sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro tronchesi e altri attrezzi utilizzati per la commissione del reato A seguito del rito direttissimo è stato sottoposto alla misura della detenzione in carcere Un palermitano di 41 anni è stato arrestato in Corso Tucori vicino alla stazione centrale di Palermo trasportava droga con una bicicletta elettrica la polizia lo ha ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti L'arresto è stato effettuato da pattuglie in moto in abiti civili della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile che insospettiti dall'atteggiamento di un 41enne in sella a una bicicletta pedalata assistita lo hanno sottoposto a controllo di polizia che ha permesso di rinvenire un involucro in plastica trasparente termosaldato contenente cocaina allo stato puro per un peso di circa 55 grammi La perquisizione estesa all'abitazione dell'uomo ha consentito di rinvenire ulteriori tre involucri della stessa sostanza del peso di un grammo ciascuno nonché denaro contante pari a 500 euro La droga pari a 58 grammi e il denaro ritenuto frutto dell'attività illecita sono stati posti sotto sequestro L'uomo arrestato perché colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in attesa di udienza di convalida è stato condotto presso la locale casa circondariale lo russo di Paiarelli L'arresto è stato poi convalidato dal GIP Aggredisce e colpisce al volto con un coltello un ambulante bengalese condannato un mazzarese di 30 anni Tre anni e otto mesi di reclusione sono stati inflitti dal tribunale di Marsala ad un pregiudicato mazzarese di 30 anni per lesioni personali aggravate Il pregiudicato è stato invece assolto dall'accusa di rapina a mano armata Per l'imputato difeso dall'avvocato Alessandro Casano il PM aveva invocato 12 anni e 4 mesi di carcere Secondo l'accusa il 23 luglio 2023 il pregiudicato sferrò due coltellate al volto ad un venditore ambulante bengalese a scopo di rapina Il bottino sempre secondo l'accusa sarebbe stato di circa 1400 euro probabilmente l'incasso della giornata Dopo la denuncia asporta dalla vittima le forze dell'ordine avviarono indagini che successivamente sfociarono nell'individuazione nell'arresto su richiesta della procura di Marsala del presunto rapinatore Nel capo d'accusa si legge che il trentenne al fine di assicurarsi il possesso della somma di 1400 euro Immediatamente dopo averla sottratta a Odin Nizam e comunque per assicurarsi l'impunità e in modo da garantirsi la fuga Adoperava violenza contro quest'ultimo colpendolo al volto con due fendenti sferrati con un coltello La vittima della rapina riportava ferite allo zigomo sinistro che poi al pronto soccorso dell'ospedale sono state giudicate guaribili in 15 giorni Ferite che hanno prodotto uno sfregio permanente come ha sottolineato il pubblico ministero Lisella nel corso della sua requisitoria al termine della quale il magistrato invocò una pena esemplare per l'imputato Ma nella sua ringa l'avvocato Alessandro Casano è riuscito a convincere i giudici che non si trattò di una rapina o comunque non c'erano le prove per affermarlo Un turista francese di 77 anni ha perso la vita ieri mattina mentre si trovava in mare a Marinella di Selinonte La tragedia è venuta poco prima delle ore 12 davanti l'ido del villaggio Oasi nell'area della riserva orientata del fiume Belice L'anziano sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua Sono intervenuti i bagnini delle strutture balneali presenti nell'area ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare Sul posto sono intervenuti i carabinieri e capitaneria di porto È intervenuta un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo Parliamo della tentata truffa e i danni di una donna anziana di Menfi con la tecnica del finto incidente del figlio Sono tornati in azione i truffatori telefonici del finto incidente al figlio Si presenta come l'avvocato Molinari e chiama a casa di una 86enne per riferirle che il figlio è rimasto vittima di un incidente E che per evitare l'arresto deve pagare una somma di denaro Nella tarda mattinata di ieri, 17 settembre, una pensionata di 86 anni di Menfi è stata vittima di un tentativo di truffa telefonica Il sedicente avvocato l'ha contattata informandola falsamente che suo figlio aveva causato un incidente stradale Vittima una ragazza trasportata in ospedale che stava subendo una delicata operazione L'anziana signora ha chiesto quale figlio Il truffatore ha risposto il nome esatto del figlio E approfittando della situazione emotiva della donna le ha chiesto di pagare una cauzione di 3.000 euro per evitare l'arresto del figlio Improvvisamente si interrompe la telefonata a pochi secondi e la donna riceve una seconda telefonata Questa volta da un uomo che si presenta come maresciallo dei carabinieri Il finto carabiniere ha riferito che il figlio aveva appena avuto un incidente Già era intervenuto l'avvocato Molinari E che da lì a poco si sarebbero recati nell'abitazione dell'anziana alcuni carabinieri per reperire documenti e la somma di danaro Al fine di evitare la denuncia Fortunatamente la pensionata insospettita ha confidato la sua disperazione Telefonando immediatamente al proprio legale di fiducia L'avvocato Giuseppe Buscemi Che è riuscito a rintracciare il figlio della donna Che casualmente si trovava nei pressi dell'abitazione Tuttavia grazie all'intervento del figlio e la diffidenza della donna Il truffatore ha desistito Successivamente l'anziana donna con il proprio legale Ha segnalato l'attentata truffa ai carabinieri della locale stazione di Menfi Si comunica che in seguito al ritrovamento di un oggetto metallico di possibile natura esplosiva In attesa dell'intervento degli artificieri La Capitaneria di Porto di Trapani ha disposto l'interdizione dell'area di mare Antistante la spiaggia Praia a Favignana e il divieto di navigazione Ancoraggio, sosta, balneazione, immersioni, pesca e qualsiasi altra attività marittima non autorizzata Le forze dell'ordine e le unità adibite a pubblici servizi In caso di necessità potranno accedere previa autorizzazione della Capitaneria Si invita la cittadinanza a rispettare scrupolosamente tali disposizioni All'ospedale di Mazzara carenza di personale Trema, pediatria, ricoveri bloccati Ascoltiamo il servizio tratto da un'inchiesta del giornalista Luca Di Noto Sembra quasi un paradosso ma da qualche tempo l'ospedale di Mazzara a Belagliello non gode di buona salute E' così un luogo deputato al benessere e alle cure in questo momento in piena sofferenza E' quello che sta accadendo ad esempio in pediatria dove i ricoveri sono bloccati Il reparto infatti soffre la carenza di medici e lì si fanno solo consulenze di pronto soccorso dalle 8 alle 20 Superato questo orario i piccoli pazienti vengono dirottati direttamente in altri presidi a Marsala o Trapani Creando non poche difficoltà per i casi più gravi Una situazione che va avanti nonostante il grido d'allarme sia arrivato da più parti negli ultimi mesi I problemi sono sempre dovuti alla mancanza di personale spiega l'ex presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano E se noi forze politiche non interveniamo con maggiori incentivi al personale medico e paramedico Andranno tutti verso il privato Il pubblico infatti non è più attrattivo come lo era dieci anni fa Il presidente provinciale e commissario cittadino dell'ADC Ha sempre seguito da vicino le tematiche legate all'ospedale E ricorda Nell'agosto 2019 il punto nascite di Mazzara e la pediatria erano praticamente chiuse E grazie alla direzione strategica di allora e alla disponibilità di medici in pensione Come il dottor Adamo e il dottore Boceri Ex primari che sono rientrati al lavoro Si è riusciti a ricostituire i reparti con l'arrivo di altri medici E dare disponibilità per la copertura dei turni La paventata chiusura dunque è stata scongiurata Da tempo insiste la voce che vorrebbe la chiusura del punto nascite prontamente smentita dall'ASP Se la direzione strategica dell'ASP dice che non ci sono rischi in tal senso ne prendo atto Anzi bisognerebbe potenziare Nel 2023 ci sono stati quasi 750 parti a Mazzara Invito la direzione strategica dell'ASP a far sì che questo reparto sia potenziato E organizzarsi in modo che la pediatria abbia la possibilità di ricoverare i bambini della Valle del Belice e di Mazzara Direttamente all'ospedale senza doverli trasferire Una questione seguita da vicino anche da Natale Russo, coordinatore locale del Tribunale dei diritti del malato di cittadinanza attiva di Mazzara del Vallo Bisogna fare presente che mancano i medici, soprattutto i pediatri che abbandonano l'ospedale e fanno i pediatri di famiglia per guadagnare di più A Mazzara attualmente fino alla fine di settembre il reparto di pediatria non farà ricoveri per mancanza di medici C'è soltanto un ambulatorio Questo crea disagi alla popolazione perché il servizio sanitario non è efficiente Proprio il Tribunale del malato nei mesi scorsi ha denunciato lo stato di abbandono dell'ospedale a Belayello Ma Russo afferma Il direttore dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, ha fatto già un bando per creare una graduatoria E sta interpellando dei pediatri per farli venire a Mazzara A quanto pare però ci sono delle difficoltà in questo Fino a fine settembre il reparto di pediatria funzionerà come ambulatorio La speranza è quella di trovare il numero di pediatri per riportare il reparto nuovamente al buon funzionamento Decisamente più aspre le parole di Nicolò Di Giovanni, presidente del comitato pro Abele Aiello Nato negli scorsi mesi per sensibilizzare la cittadinanza Dall'ASP non fanno altro che fare comunicati al Valium o a Larenzi State sereni Il tentativo di depotenziare Mazzara non è finito, anzi sta continuando Che il momento sia critico è però evidente Questa situazione, prosegue Di Giovanni, causa problemi Se un ragazzino ha un problema e deve essere ricoverato, deve essere portato altrove C'è una situazione di criticità e lo stesso discorso si sta creando nell'ostetricia Il punto nascite? Mazzara è sempre stata un riferimento e ha addirittura più parti annuali rispetto a Marsala Tutta la Valle del Belice resterebbe scoperta Mazzara andrebbe potenziata in maniera concreta Cerimonia di presentazione del restauro della pala d'altare Spasimo di Sicilia Domenica 29 settembre alle ore 17.30 presso la parrocchia Cristo Re in San Martino di Mazzara del Vallo Interverranno Don Daniele Donato, Don Leo Di Simone, Francesca Paola Massara, Rosalia Teri Concluderà il vescovo Monsignor Angelo Giordanella Alle ore 19 Santa Messa in suffraggio di Monsignor Edoardo Tilotta Cus Cus Fest domani al via la 27esima edizione a San Vito e Lo Capo Ascoltiamo tutti i particolari nel servizio Chef provenienti da 10 paesi, cooking, show, degustazioni, concerti, spettacoli e ospiti Decezione su una spiaggia mozzafiato Prende il via domani venerdì 20 settembre la 27esima edizione del Cus Cus Fest Il festival internazionale dell'integrazione culturale organizzato dall'Agenzia Feedback In partnership con il comune di San Vito Lo Capo Il sostegno della regione siciliana è dei main sponsor via Cus Cus, Conad ed Electrolux Che si svolgerà fino a domenica 29 settembre a San Vito Lo Capo All'insegna dello slogan Grains of Peace, grani di pace Che ribadirà anche quest'anno il messaggio di pace e unione tra i popoli Che da sempre è il cardine della manifestazione Per la prima volta saranno 10 paesi partecipanti al campionato del mondo di Cus Cus Il BIA Cus Cus World Championship Il momento centrale del Cus Cus Fest Una gara tra chef internazionali all'insegna dello scambio e dell'integrazione Che vedrà affrontarsi le seguenti squadre Cina, Eritrea, Israele, Italia, Marocco, Medici senza frontiere, Palestina, Russia, Tunisia e Ucraina Domani, venerdì 20 settembre alle ore 10 Si parlerà di intelligenza artificiale, DOP Economy, sviluppi e prospettive Nell'ambito della convention promossa da CIA Sicilia Occidentale Il primo panel sarà sul tema delle politiche a supporto dell'innovazione digitale in agricoltura Con interventi tra gli altri dell'euro parlamentare Brando Benifei Relatore del regolamento sull'intelligenza artificiale Si prosegue con il panel dedicato all'area tecnica dal settore industriale al settore agricolo Alle ore 12 al via le degustazioni alle case del Cus Cus Il ticket degustazione da 12 euro comprende un piatto di Cus Cus a scelta Tra quelli proposti dalle case del Cus Cus Un bicchiere di vino o una bottiglietta d'acqua e un caffè Sarà possibile visitare gratuitamente tutti i giorni dalle 17.30 alle 20 il Museo del Cus Cus Che si inaugura oggi, giovedì 18 settembre alle ore 18.30 Al centro polifunzionale comunale Padre Anselmo Caradonna Il museo, il primo del suo genere, custodisce una collezione di utensili legati al Cus Cus E alla sua preparazione di nuova e antica realizzazione provenienti dalla Sicilia e dai paesi del Nord Africa Ogni sera sulla spiaggia un ricco palinsesto di concerti e spettacoli gratuiti Ad aprire lo spettacolo ci sarà domani venerdì 19 alle ore 22.000 Alle ore 22.30 sarà il turno di la rappresentante di lista Ed era questa l'ultima notizia e come sempre vi ringrazio per averci seguito Vi ricordo che potete continuare a farlo sul nostro sito web e sulla nostra pagina Facebook E vi do appuntamento alla prossima edizione Buona continuazione di giornata Grazie a tutti